Jingle bell, jingle bell, jingle all the way Daniela, dobbiamo sbrigarci perché deve iniziare la puntata di Oggi Condominio Va bene, ma passami le palle Ecco E chi sei? Santa Claus? Non sono Santa Claus, sono Isidore, noi siamo Oggi Condominio seguiteci per tutte le vicende condominiali sul canale 83 del Digitale Terrestre Delta TV per una nuova puntata di Oggi Condominio ogni lunedì e ogni venerdì alle ore 13, 19 e 23 E mi raccomando la letterina a Babbo Natale la mandate a noi al 333 4133 289 Buon Natale a tutti E non all'amministratore